Allora... la cesta va dai lì forte se non gli dai forte non vai fuori dai lì 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 Sì Ehi 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 Non lì Il coso è là Allargala bene Allora A me non mi piace lì A me non piace lì Sono anche più facile Andiamo Raccogliamo gli ovetti kinder Tac 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 Noi eh si eh, ascoltami bisogna... sono qua dei bimbi... andiamo!